Ciao a tutti! Oggi vi presenteremo, vi faremo vedere come si fa una farfalla che muove le ali che fai così, no? Allora, per lo corrente ci serve un foglio e delle forbici. Allora, si piega il foglio. Molto pecciglie. Ora, dopo aver piegato il foglio, molto bene, vogliamo tagliare. Ovviamente questa parte non ci serve più, quindi la mettiamo da parte. Ok, ora apriamo e pieghiamo. Apriamo e pieghiamo dall'altra parte come abbiamo fatto la linea. Aspettate, bisogna molto piegare bene. Se non è una farfalla non viene decisa. Allora, poi lo pieghiamo così. Ok, ora si apre e lo pieghiamo. Ora, qua vedete le linee a forma di un triangolo. Dovete passarlo così, aprirlo, potete vedere così, e lo chiudete. e lo fate la stessa parte, e lo fate la stessa cosa dall'altra parte. Deve essere molto lineato per questo. Ok, ora prendete sempre le cordici e tagliate solo da una parte, a forma di cerchi. Di come stiamo cercando. Ora, fate così. Ora, fate così. Così. E poi anche dietro lo girate. Ora, lo aprite. Lo aprite così. E fate questo. Piegate di qua. Molto bene. Bella. Ora, prendiamo questo. Questa parte. Così. E la mettete così. Qui. Così. Mettete così. L'aprite qua. E... Ecco fatta la farfalla. Spero che vi sia piaciuto questo video. Iscrivetevi al nostro canale.